Ok, siete molto divertenti! Ora potete uscire! Sfigati! I tuoi amici sono già andati via! Hai bisogno di aiuto? Senti, scemo, non mi fai paura! Perché non ci provi con una cicciona delle Delta Gamma? A loro piace il cosplay! Ok, adesso chiamo la polizia! Scriviti! Oh, cazzo. Oh, cazzo, mi hai spaventata. Cos'è? Vuoi un altro pugno in faccia? Benvenuta nel Tempio del Piacere. È un po' alto, non credi? È un po' alto. È un po' alto. Ho totalmente rotto le scatole. Divertiti a giocare da solo. Dai, Nick, sul serio, Daniel sta dando di matto perché... aiutami, aiutami! Brutto strancio! ... ... ... ... ... ... Oh! 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 Goditi l'occe perché non c'è un domane. G-48! Facciamo il patto! G-48! Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.